Buongiorno ragazzi, nel video di oggi parleremo di trovare lavoro all'estero, ciò che dovete sapere. Benvenuti a Vita Living Abroad, nel video di oggi parleremo di trucchetti e consigli per poter trovare un lavoro nel nuovo paese in cui andate. Prima di questo, stoppate il video, schiacciate subscribe, solo sottoscrivendo mi permetterete di continuare a fare questi video in futuro. Detto questo, basandomi sulle mie esperienze personali, oggi mi focalizzerò maggiormente sull'Inghilterra. Nel 2012 mi spostai a Londra, mi ero fatto un'idea sul caro Vita, che è molto cara, Londra costa veramente tanto. Però all'inizio, per i primi 1-2 mesi, specialmente quando sta cercando lavoro, potrebbe essere una delle migliori soluzioni. Quindi pagare di più potrebbe esservi utile per poi spostarvi successivamente. Il mio consiglio è, quando arrivate a Heathrow or Stansted, uno dei due aeroporti, vi trovate un'accommodation. Se non siete troppo picchi, schizzinosi, ci sono queste accommodation che sono una via di mezzo tra ostelli e accommodation per studenti. Quindi sono un livello un po' più alto. Sono ancora care, parlo di sui 170 sterline alla settimana, che in euro saranno sui 200. Detto questo, è molto importante avere una connessione wifi. Quando arrivai le mie prime 2-3 settimane, ogni giorno dopo colazione, mi sedevo dalle 9 del mattino fino alle 11 e mezza, mezzogiorno. Cercavo lavori e poi la restante parte della giornata andavo e visitavo Londra. Andavano i musei che sono gratis. Quindi non era solo cercare lavoro, ma era cercare lavoro la prima parte della giornata. La seconda era più per fare amicizia, queste residenze studentesche ce la possiamo andare in giro, di scambiare informazioni. Anzi, io incoraggio andare a vivere in queste tipologie di sistemazioni perché appunto c'è questo sharing di knowledge, di conoscenza, che potrebbe risultare molto ma molto utile. Sappiate che ci sono altri documenti da fare quando arrivate lì, tipo aprire un conto corrente National Insurance Number, equivalente del codice fiscale italiano. E vi serve per andare a lavorare. Ma potete trovare il lavoro prima e una volta che avete il lavoro fate l'applicazione per fare questo nino. Quindi non è compulsory, non è obbligatorio farlo prima di trovarlo. Anzi, siccome c'è anche una specie di interview quando si richiede questo numero, è consigliabile avere il lavoro di modo tale che uno dica si serve questo perché il lavoro ce l'ho già. Ero arrivato il mercoledì e il sabato e la domenica li ho usati per visitare altre città per cui avevo l'interesse. Ovvero, il sabato sono andato a Cambridge e la domenica ad Oxford. Ho trovato entrambe le città molto valide, molto belle. Ho adorato dall'inizio Cambridge e Oxford un po' di meno, giusto perché Cambridge sembra proprio Hogwarts di Harry Potter. E' la stessa cosa quando cammini nel centro. In Oxford è più un miscuglio di città e universities. Per la parte storica lo danno i colleges e le università. Quindi Oxford è una specie di miscuglio architettonico tra i due stili. Mentre Cambridge è più un solo stile architettonico, il centro, e poi uscendo all'esterno si va su più una città moderna. Ho visitato, mi sono fatto un'idea, ho cominciato a cercare lavoro in Londra e Cambridge e Oxford. Ero stato molto fortunato, ho trovato subito lavoro a Cambridge, quindi mi sono spostato. Detto questo, fate molta attenzione a Londra. Io vedo Londra come un gigantesco tritacarne. I carovita è altissimo. Gli stipendi dipende. Dipende dall'occupazione del lavoro che fate. La maggior parte degli italiani che si muovono in Inghilterra finiscono per andare a fare i kitchen hand, a lavorare, a lavare i piatti, a fare questo genere di lavoro, che purtroppo non sono così ben pagati. In pratica fate quel tipo di lavoro e alla fine del mese spendete il 70% di quello che guadagnate solo per pagare l'affitto. E la qualità degli appartamenti non è un gran che. Rispetto a qualità degli appartamenti in Italia lascia molto a desiderare. Il mio consiglio è quello di andare a Londra per farsi un'idea, per fare un po' di documenti, per cominciare a cercare. Però poi l'Inghilterra ha moltissime città e ci sono moltissime opportunità. Londra, siccome è la più gettonata in assoluto, voi dovete pensare che non ci sono solo gli italiani che vanno a Londra per cominciare qualcosa. E qui avete anche i francesi, i tedeschi, i spagnoli, i portoghesi. Avete una competizione pazzesca. Addirittura ai tempi, mi ricordo un mio amico che cercava un lavoro per un negozio di vestiti e quel negozio faceva i colloqui a Steps. Come le grandi ditte, se si passa al primo colloquio, il secondo colloquio sarà con l'echare, il terzo colloquio sarà col management. Questi per un negozio di vestiti, per quindi fare il commesso all'interno di un negozio di vestiti, richiedevano questi steps. Perché c'erano talmente tanti candidati che dovevano fare una specie di shortlist, filtrare per andare al top. Un altro mi aveva raccontato che aveva fatto un colloquio per lavorare a Subway, quello dei panini. E al colloquio queste persone ne hanno chiesto, ma lei ha esperienza di panini? Ha mai lavorato in un negozio di panini? No, allora perché dovremmo assumerla quando c'è la fila fuori di gente che sa fare i panini. Per darvi un'idea, la competizione in Londra è una cosa assurda. Il mio consiglio è state a Londra, giusto per iniziare, ma poi andatene fuori. Considerate città, considerate la Scozia. La Scozia è un po' più fredda, però è bellissima. Ha una natura stupenda, le città storiche, è veramente un posto grandioso. Senza dimenticare altre città parse per l'Inghilterra. York, bellissima città universitaria. Manchester, città industriale. Liverpool. Cercate di pensare l'Inghilterra non come Londra. Londra non è lo UK. Londra è Londra. È come se fosse uno stato a sé. Il problema di Londra è che, come ho detto prima, è come un tritacarne. La gente ci entra e il 70% ne esce maciullata. Quindi potrebbe risultare non una grande esperienza. Vi do un altro esempio. Quando cominciai a lavorare a Cambridge, era una ditta abbastanza grande. Nei primi tempi mi dissero, tu sei il primo italiano che lavora per noi da sempre. Ed era Cambridge. Cambridge è locata a 90 km a nord di Londra. Vi fa capire quanto Londra sia un sistema chiuso a sé e appena si esce al di fuori ci sono tantissime opportunità. Basta uscire. Mi raccomando, sappiate che questo è l'Iter. L'Inghilterra è uno stato. È come andare in Italia, però, focalizzarsi solo su Roma. Esiste Milano, esiste Venezia, Bologna, Napoli. Non considerate in Inghilterra solo Londra perché potreste pagarne un alto prezzo. Ovviamente dipende dagli stati. Come l'Australia è diversa dall'Inghilterra. Cioè l'Australia non è come l'Europa. Gli stati all'interno dell'Australia non sono da considerarsi come gli stati europei. È completamente diversa. Qui, al contrario, dovete sapere, la maggior parte della popolazione è concentrata in quattro città. Brisbane, Sydney, Melbourne, Perth. La maggior parte abita e lavora in queste città. Immaginatela come quattro grosse isole principali. Quando dovete trovare lavoro, a meno che non sia un lavoro specialistico per andare nella parte desertica, nei bush, fuori dalle città, tutti i lavori si concentrano. Quindi Sydney è un po' più la Milano dell'Australia, mentre Melbourne è più la Roma. In un video futuro parlerò anche delle cose interessanti e carine. La specie di guerra che c'è tra Sydney e Melbourne e le differenze principali tra le due città. Anche oggi spero di esservi stato utile. Se abbiate trovato queste informazioni useful, vi siete goduti il video, premete like e mi raccomando subscribe. Così che possa continuare a fare ulteriori video e parlare di altri argomenti importanti per quando dovrete spostarvi e vivere all'estero. Grazie di tutto, vi auguro una buona giornata. Ciao. Ciao. Ciao.